Musica E' abbastanza anomalo nelle piazze italiane sentire gente che suona, vengono visti sempre come gli alieni. Circare di comporre sempre delle cose migliori insieme ai propri gruppi e magari se c'è la fama bene, ma se no comunque è una cosa importante per se stessi. Musica Vengono penalizzati i cantatori, i musicisti, perché non riescono a vendere più cd. E' giusto conoscere la teoria, però forse l'esperienza, il vivere, il rapportarsi con il pubblico credo che sia una delle cose più importanti. Musica Io ho sempre ascoltato i cantautori, cosa abbastanza classica, ma anche ora ne stanno venendo fuori un promettenti. Musica Con una chitarra da sola può suonare in certi casi come se fossero due, secondo me questa è l'idea. E quindi immagino poi un giorno con una seconda chitarra cosa si potrebbe fare. Il vincitore del primo premio è Stefano Morchio. Morchio Il vincitore di questo primo premio che consiste in una bellissima chitarra Shetter. La prossima edizione ti inviteremo a proporci un brano con questa chitarra direttamente suonata da te. Grazie ragazzi, un applauso Stefano Morchio, il vincitore della seconda edizione. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.